Quanto è aumentata la presenza, diciamo proprio il pernottamento ad Arezzo rispetto a qualche anno fa? Di tantissimo, i dati ufficiali parlano di 200.000 persone che oggi a differenza del 2014 soggiorna la nostra città a queste si deve aggiungere circa 150.000 sulle locazioni turistiche che ovviamente ancora non abbiamo dati Istat. Quindi Arezzo sta crescendo, sta crescendo tantissimo ma non solo dal punto di vista del turista ma anche delle attività produttive legate proprio al turismo. Quindi sono cresciuti i posti letto, sono passati da 1.000 dei primi anni 2000 a quasi 4.500 di ore quindi tantissimi aretini si stanno diciamo buttando sul mondo delle strutture ricettive sia dal lato dei bed and breakfast che dal lato delle locazioni. A queste bisogna anche poi aggiungere il fatto che il turismo oggi insieme ai servizi sono gli unici due settori che assumono più 12 uno e più 17 l'altro mentre tutti gli altri purtroppo sono in controtendenza. Quindi sicuramente dovremo lavorare sempre più per migliorare le attività produttive quindi lavorare sulla nostra parte più artigianale, industriale però al tempo stesso vedere il turismo come una costola quindi come una strada alternativa da poter portare avanti perché comunque la città piace quindi la cosa più importante è che il turista che viene se ne va contento quindi questo vuol dire che abbiamo le basi insomma per investire sul turismo. Ecco, venendo alle questioni un pochino più cittadine la buccia di banana saranno le luminarie? Speriamo proprio di no. No, le luminarie è stato un esperimento che la Fondazione Intura ha voluto fare per cercare di risolvere un problema annosissimo. Negli ultimi dieci anni quindi comunque sia noi che la vecchia amministrazione ha avuto grandi problemi sulle luminarie, nel 2013 vennero sequestrate tutte quindi era un problema che volevamo risolvere. Ci abbiamo provato obiettivamente con risultati non positivissimi più che altro perché non abbiamo avuto una grande risposta da chi una volta di solito le pagava tradizionalmente che comunque per un motivo o per un altro a noi non ha pagato quindi ad oggi è un costo troppo elevato per la Fondazione e valuteremo se rifarlo o no. Però la cosa positiva è che la città ha questa grande massa di persone sia comunque fatta vedere pulita, illuminata, quindi molto viva e quindi questo comunque è risultato positivo uguale.